Non si ferma la scia di sangue sulle strade bresciane bergamasche. In sole 24 ore ci sono state ben sei vittime della strada ma anche tanti incidenti gravi. Nella serata di questo venerdì 18 dicembre alle 21 abbonate sopra ha perso la vita Mattia Gandolfi, ventenne di Prezzate di Mapello. Il ragazzo in sella la sua KTM 150 su cui viaggiava anche un'amica di 17 anni stava percorrendo la provinciale 155 quando ha perso il controllo della due ruote finendo a forte velocità contro una siepe a bordo strada. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e l'auto medica ma i sanitari hanno dovuto constatare il decesso del ragazzo sbalzato violentamente dalla sella con un terribile volo di parecchi metri. La 17enne che viaggiava con lui invece ha riportato solo ferite lievi. Per accertamenti è stata portata a Policlinico San Pietro in codice verde. Per i rilievi del caso è intervenuta la polizia stradale di Treviglio che sta ricostruendo la chiara dinamica del tragico incidente. Poco prima, attorno alle 20-45 una donna di 86 anni di terno d'isola ha perso la vita sotto il treno diretto da Carnate a Milano. L'anziana che abitava poco distante, forse disorientata, è finita sui binari mentre sopraggiungeva il treno. Per lei non c'è stato nulla da fare, travolta e morta sul colpo. Nella tarda mattinata di questo venerdì un anziano di 84 anni a Montichiari è stata travolta da una Peugeot mentre stava attraversando la strada, con in mano le borse della spesa. L'anziana è stata scaraventata a terra riportando gravi ferite che le sono state fatali. Il cinquantenne, alla guida della Peugeot, si è fermato subito a soccorrerla. Quindi è stata trasferita in elicottero il codice rosso al civile di Brescia dove poco dopo è spirata. Intanto la polizia stradale di Montichiari sta cercando i parenti dei cinque rumeni residenti a Cremona che viaggiavano sulla A21 nella tarda serata di giovedì 17 dicembre quando, in territorio di San Gervasio Bresciano, l'auto era finita contro un guardrail. Il trentenne alla guida e la trentatrenne a suo fianco erano morte sul colpo. Gli altri tre che viaggiavano con loro sono ricoverati negli ospedali bresciani. Uno di loro sarebbe grave. Ed è cordoglio un appello per la tragica fine di Roberto Avigliano, trentaduenne originario di Novara, schiantatosi con il suo furgone contro un camion che stava rallentando per lavori sulla carreggiata dell'A22 Modena Brennero all'altezza del casello Trento Sud. Il giovane era molto appassionato di motori e collaborava come opinionista ad un sito specializzato.